Sono tre le attrazioni principali, Casa di Babbo Natale, Ufficio Postale e Ricovero della Slitta. Per intenderci la Casa di Babbo Natale è alta 7 metri, ha 70 metri quadri di superficie ed è vivibile. All'interno si troveranno delle scenografie realizzate da scenografi tra i più importanti d'Italia. Il ricovero della Slitta, si potrà salire su questa Slitta che è alta 3 metri con tutta la famiglia e farsi fotografare. E poi l'Ufficio Postale dove i bambini potranno scrivere o da casa e quindi portare le letterine piuttosto che scrivere sul posto e verranno imbucate dagli Elfi che si arrampicheranno sulle pareti e andranno a imbucare su un casellario fatto apposta per lasciare il messaggio a Babbo Natale. Quindi vivremo due tipologie di esperienza. Una è quella più legata all'aspetto visivo, quindi vedremo per la prima volta queste strutture. e l'altro invece è un aspetto più di trasporto emotivo. Abbiamo all'interno del villaggio realizzato un contenuto per far vivere la vera emozione del Natale. È un musical che si chiama appunto Natale da favola dove si racconterà la magia del Natale. E questo avverrà grazie alla collaborazione con Elena Ronchetti che è il direttore artistico di tutto il villaggio e quindi attori professionisti ci faranno vivere questi momenti. Il villaggio aperto dall'ultimo weekend di novembre, quindi 27-28, rimarrà aperto tutti i weekend. Si aggiungerà poi il 7 e l'8 di dicembre, quindi l'Immacolata, e poi dal 23 dicembre tutti i giorni fino ad arrivare al 6 di gennaio con l'arrivo della Befana. Lei ha voluto precisare in conferenza stampa che ci sarà un ingresso a pagamento di 15 euro motivandolo per quello che offre il villaggio e anche per l'investimento importante a vostro carico. Sì, allora, intanto è un investimento da privati, quindi ringraziamo il Comune per ciò che ha messo a disposizione, quindi spazi e la loro disponibilità organizzativa per fare in modo che tutto possa andare bene, ma poi l'investimento è tutto quanto nostro, quindi è un'esposizione di circa 250 mila euro che grava sulle nostre spalle. Abbiamo voluto fortemente farlo perché crediamo al territorio. Chiaramente il villaggio, questo investimento si può sostenere solamente con una parte di sponsor e il resto sono gli ingressi, dunque vendiamo biglietti attraverso una piattaforma che è CiaoTicket. Il biglietto costa 15 euro. Ha detto bene, prima mi riferivo al fatto tanto poco perché poi è facile giudicare, ma io dico che è meglio giudicare dopo aver guardato ciò che è veramente, dopo aver vissuto quell'esperienza lì. Noi da parte nostra cerchiamo di dare senso a quei 15 euro, per cui riteniamo che sia il posizionamento corretto per quello che offriamo.